È iniziata nel pomeriggio di domenica 8 maggio, nella Basilica Concattedrale di San Benedetto Gualdo Tadino, la ricognizione canonica delle spoglie mortali del Beato Angelo da Gualdo, patrono della città e compatrono della diocesi. Dopo un iniziale momento di preghiera presieduto dal Vescovo che ha incensato il corpo del Beato, è seguita la lettura del decreto di designazione e nomina dei componenti del Tribunale per la ricognizione delle spoglie mortali addetti a tale operazione. Questi esami, ha detto Monsignor Sorrentino, sono utili sia per tenere sotto controllo lo stato di conservazione del corpo, ma ci aiuteranno anche a conoscere alcuni aspetti della vita del Beato Angelo. Le procedure sono seguite da Simona Minozzi, antropologa fisica e forense, paleopatologa Agata Lunardini, archeologa specializzata nello studio delle mummie e paleopatologa, Lara Simonaitis, tecnico del restauro di reperti umani antichi. Al termine della lettura del decreto sono seguiti i giuramenti dei designati davanti al Vescovo, il taglio dei sigilli e l'apertura dell'urna. Dopo la celebrazione eucaristica, l'urna, precedentemente situata ai piedi dell'altare, è stata spostata nella cappella di San Michele, dove i tecnici effettueranno gli esami, che dureranno alcuni giorni. L'ultima ricognizione superficiale effettuata in occasione del cambio dell'urna era stata fatta nel 1961.